Oggi ragazzi stiamo vedendo i campionati assoluti di danza Campionati italiani assoluti 2018 Adesso stanno incominciando le danze Non vuoi parlare? Ai miei amici, vieni Anche tu fai danza Niente, non vuole parlare Stiamo vedendo Per quanto riguarda Adesso ci sarà La prima batteria di waltzer lento E poi di nuovo il jive E il latino americano Madonna che vestiti Questa ragazzi è i danze assoluti A Poligno 2018, i campionati assoluti 2018 16 e under 18 La paura Maschè Andrea La prima batteria di bambini Grazie a tutti. 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 , grazie a tutti. , grazie a tutti. , grazie a tutti. a tutti. a tutti. , grazie a tutti. Non ho capito. , grazie a tutti. , grazie a tutti. , grazie a tutti. , grazie a tutti. ....